Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 27 gennaio. Ariete, lasciate senza apprezzione che gli altri giudichino il vostro operato. Il risponso non potrà che essere positivo, perciò non avete nulla da temere. Non sottovalutate l'appoggio di un team di persone esperte e dinamiche. Perché fare tutto da soli? Toro, l'energia è alle stelle e la salute è ottima. Potreste fare grandi cose se solo focalizzaste la vostra attenzione verso un'unica direzione. Anche se la meta è elevata, potrete raggiungerla in un batter d'occhio, meravigliando apertamente tutti. Gemelli, alcune cose non dette sotto sotto scottano ancora e rimangono un problema che dovreste risolvere al più presto con il diretto interessato. Cercate ogni occasione possibile per dialogare e scambiare opinioni, anche se non vi sembra importante. Cancro, alcune apprezzioni scompariranno sotto l'ala di certezze maggiori. Non dovete far altro che seguire il vostro istinto ovunque vi condurrà. La realtà dei fatti a volte è colorata dalla vostra immaginazione, ma in fondo che male ci può essere? Leone, il lupo perde il pelo ma non il vizio e dato che voi avete occhi abbastanza acuti, lo riconoscerete subito anche travestito da agnello. Anche se purtroppo vi ritroverete con più di una gatta da pelare, sbrigherete il tutto senza batter ciglio. Vergine, anche se avete perso un po' di tempo dietro inutili dettagli e cavilli burocratici, lo potrete recuperare grazie a fortunate coincidenze. Non fermatevi davanti a ogni vetrina per cercare qualche buon affare, per ora meglio limitare le spese. Bilancia, occorrono solide basi e altrettanto buonsenso, ma se non ve la sentite di accogliere la proposta di una persona sconosciuta, lasciate perdere. La fiducia è la prima cosa in un rapporto, anche di lavoro, e se non c'è non ha senso di continuare. Scorpione, troverete le giuste occasioni per rimpinguare le vostre finanze e non rimanere al verde, ma dovrete accettare anche alcuni compromessi. Magari in un'altra occasione avreste rifiutato e cercato qualcos'altro, ma stavolta accontentatevi. Sagittario, in casa potrebbe diffondersi un clima di tensione, soprattutto se l'arrivo inaspettato di un ospite poco gradito ha scombussolato tutti i vostri piani. Siate gentili con chi in fondo non c'entra nulla, ma è solo capitato in un momento poco opportuno. Capricorno, forse qualcuno cercherà di coinvolgervi in qualche affare all'apparenza estremamente vantaggioso, ma voi non lasciatevi ingannare dall'apparenza. Per migliorare benessere e forma, puntate sulla forza di volontà e datevi delle abitudini di vita più salutari. Acquario, occorre una grande concentrazione per portare a termine alcuni compiti di precisione. Se non ve la sentite, potete sempre rifiutare con un pretesto. Il fatto che siete stati prescelti vi riempie d'orgoglio, perciò, prima di tirarvi indietro, riflettete bene. Pesci, all'interno della coppia manca un po' di dialogo e anche per questo l'intesa potrebbe risentirne. Chi aspettate a fare voi il primo passo? Una cena romantica preparata con le vostre mani potrebbe essere un segno che qualcosa sta cambiando.